buonasera la redazione del professor batini era piena di suggestioni e vorrei coglierne all'inizio una questa idea delle storie uniche umberto ecco diceva sempre che chi ha letto pochi libri ha fatto poca vita chi legge molti libri alla possibilità di vivere tantissime vite che in una vita normale non sarebbe possibile vivere e questo è molto molto importante anche per il discorso che facciamo noi sulle storie giusti l'altro aspetto è anche quello della semplificazione le storie sono delle storie sempre complesse sempre molto complicate non è facile dire impossibile sintetizzare una vicenda una storia in poche parole anni fa forse qualcuno ricorderà il sole 24 ore lanciò un una sorta di concorso per chi fosse riuscito a sintetizzare meglio un romanzo romanzo famoso vinse una signora che aveva sintetizzato anna calienina che è un romanzo di parecchie pagine e la sua sintesi era si innamorò di un batti in un battibaleno e finì sotto un treno ecco sintetizzare così è molto divertente molto intelligente però non vi una ecco la vicenda di anna calienina che non è solo la vicenda di una donna che tradisce il marito che si innamora appunto di un disgraziato che la fa soffrire poi appunto si butta sotto un treno alla fine è un romanzo così lungo proprio perché appunto la vita di una persona anche una persona abbastanza diciamo sì normale insomma è una storia abbastanza se vogliamo semplice banale necessita invece è un grande scrittore come tal sto e fa esattamente questo di una grande capacità di vedere tutti gli aspetti nella vita una persona e raccontarli perché altrimenti non è possibile comprenderli e quando noi raccontiamo le storie dei giusti non vogliamo appunto parlare di santi cioè di racchiudere queste storie in una sorta di apologia breve come spesso si fa si è fatto con le storie dei santi noi vogliamo invece imparare a raccontare storie complesse con storie come la vita è appunto che non sono in bianco e nero la narrazione è altrettanto importante che le storie stesse vorrei iniziare da un esempio appunto di volontà di narrazione nonostante le avversità terribili che stavano attorno nel 1940 i tedeschi rinchiusero nel ghetto di varzavia 450.000 ebrei c'era la fame c'erano le malattie c'era la disperazione ma un gruppo di giornalisti studiosi leader della comunità ebraica guidati da Emanuele Ringelblum decisero di sopravvivere raccontando le storie raccogliendo i materiali si dedicarono alla documentazione ma soprattutto appunto a farsi raccontare dalle persone che cosa stava accadendo perché questo sarebbe stato da una parte l'unico modo per cercare di capire cosa stava accadendo l'inimmaginabile appunto ma dall'altra parte loro ancora forse lo intuivano soltanto sarebbe stato questo il modo per salvare in un certo senso la memoria di quelle persone che di lì a poco sarebbero state esterminate e quando capirono che non c'era nessun tipo di possibilità di sopravvivere solo alcuni si ribellarono e combatterono fino alla fine ma la maggioranza si lasciò trasportare oramai sfinita verso i campi di sterminio Ringelblum e altri nascosero queste storie questi documenti che avevano raccolto in delle scatole in dei bussolotti per il latte che furono sotterrati e fu mandato fuori dal ghetto la notizia di dove erano stati sotterrati questi queste storie e dopo la guerra da sotto le mascerie è stato possibile tirare fuori appunto questi oggetti che vedete e lì queste in questi contenitori sono riemersi come una sorta di lampada di aladino le storie la vita i drammi delle persone che erano state rinchiuse là dentro il nella tradizione ebraica il raccontare a qualcosa di miracoloso il filosofo austriaco del dialogo martin buber nella sua raccolta del 1962 i racconti dei cassidim racconta questo breve apologo a un rabbi il cui nonno era stato discepolo discepolo del bat al shem fu chiesto di raccontare una storia egli allora disse una storia va raccontata in modo che sia essa stessa un aiuto e raccontò mio nonno era storpio una volta gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro allora raccontò come il santo bat al shem solesse saltellare danzare mentre pregava mio nonno si alzò e raccontò il racconto lo trasportò tanto che ebbe bisogno di mostrare saltellando e danzando come facesse il maestro da quel momento guarì così vanno raccontate le storie proprio perché le storie appunto sono vita bisogna cercare di narrare nel modo più vivo possibile ciò è tanto più necessario quando si raccontano le storie dei giusti che con la loro presa di coscienza le loro azioni hanno salvato altre vite contribuita alla sconfitta degli oppressori o testimoniato la verità su ciò che accade soltanto così il racconto non è fine a se stesso o una fredda compilazione di una voce biografica soltanto in questo modo le figure dei giusti possono aiutare a riflettere immaginare confrontare i giusti appunto non sono dei santini le loro storie vanno raccontate mettendo in luce nel miglior modo possibile la complessità delle persone e delle loro esistenze le storie in bianco e nero sono noiose non credibili e soprattutto non restituiscano la verità questo non significa ovviamente che la narrazione delle storie dei giusti debbono essere letteratura nessuna invenzione deve essere permessa occorre attenersi ai dati certi sfondando i fatti dalle sovrastrutture ideologiche e dalle incrostazioni false accumulatesi nel tempo il ruolo di coloro che raccontano le storie dei giusti deve un po essere simile a quello dei cronachisti medievali che si mettevano da parte per riportare nel modo più oggettivo possibile quello che è accaduto l'altra volta nella sessione precedente gabrielianissime ha paragonato il lavoro di chi racconta le storie giusti un po a quello dell'investigatore che dal caos degli indizi cerca di trovare appunto alcune tracce per ricostruire la storia è quello che appunto ci ha insegnato sherlock holmes che da una cicca da un capello da un bottone nella scena appunto del delitto riusciva poi a appunto passare dal caos a un ordine che era poi quello che avrebbe raccontato come erano andate veramente le cose ecco raccontare le storie giuste significa appunto fare un po questa indagine lavorare un po come degli appunto da una parte come dei cronachisti medievale cioè mettersi un po da parte non stare in prima le in prima fila cioè essere diciamo così appunto dei dei narratori che non si che non vogliono essere protagonisti no raccontare appunto come cronachisti dall'altra raccontare facendo la stessa operazione che fa il detective nel redigere questo lavoro a cui stiamo lavorando da anni che è l'encircopedia dei giusti voi sapete che sul sito di garivo da molto tempo si raccontano cioè si raccolgono prima delle schede informative sulle persone che sono state considerate giuste sono state onorate come giusti e poi ci siamo posti il problema che era il momento di passare da un materiale immenso a un materiale più narrato e quindi diciamo così questa enciropedia dei giusti a quale stiamo lavorando vuole essere una sorta diciamo così di raccolta di storie di storie diciamo sì che restituiscano non con una fredda scheda come in wikipedia o altre nelle altre enciropedie un vero racconto sostenuto da ricerche approfondite e un controllo anche delle fonti è ovvio che questo qui un lavoro in progress un lavoro che noi vorremmo sempre di più che vedesse come protagonisti appunto come succedeva nel medioevo quanto raccontare le vicende non erano solo i cronisti ma erano tante persone come è successo appunto dicevamo prima nel ghetto di varsavia quando rigen blum chiama a raccontare tante persone noi vorremmo che questo lavoro coinvolgesse sempre più persone e anche gli studenti e anche gli insegnanti cioè vorremmo chiamare diciamo così un numero sempre maggiore di raccontatori di narratori a parlare dei giusti a cercare anche nelle storie già raccontate se ci sono delle cose che potrebbero essere approfondite di utilizzare questo materiale che sarà l'enciropedia dei giusti come una sorta di punto di partenza appunto un work in progress significa non soltanto che si racconteranno anche altre storie e cerchiamo appunto persone che ci aiutino a raccontarle ma anche le storie già raccontate merito di essere ripassate al vaglio di essere riconsiderate e riraccontate perché appunto i veri racconti come diceva anche prima il professor batini sono dei racconti che si riraccontano perché riraccontando viene fuori sempre qualche cosa che non si era notata prima e quindi si raggiunge un briciolo di verità in più è un esercizio questo qua che che dobbiamo imparare a fare meglio e che vogliamo diciamo sì che altre persone ci aiutino a fare come vedete potete vedere appunto una scheda di questi racconti è una scheda recente che abbiamo che abbiamo costruito abbiamo narrato è la storia storia di un punto di un personaggio se vogliamo esemplare di quello che noi pensiamo siano i giusti il jan svartendeik era un olandese che fu mandato dalla philips in quella che allora era la capitale della lituania nel periodo fra le guerre caunas e lui era il rappresentante appunto della della philips a caunas quindi non era era un una persona diciamo sì che non si interessava di politica ma quando cominciò a vedere che cosa stava succedendo che tedeschi stavano cominciando a radunare gli ebrei caunas era una città che aveva un alto numero di ebrei radunarli e anche lì rinchiuderli nel ghetto e poi deportarli verso i campi di sterminio capì che non poteva stare impotente di fronte a quello che succedeva ed insieme a un suo vicino di casa che era l'ambasciatore giapponese a caunas kuni sugira sughiara cominciarono a stampare passaporti falsi dando il permesso dando la possibilità quindi a agli ebrei di fuggire con questi passaporti falsi e poter andare in teoricamente in giappone suiara in questo modo fece una cosa che il suo governo inizialmente non gli perdonò perché appunto fece dei passaporti falsi appunto andò contro la legge no recentemente anche in italia abbiamo avuto una persona condannata per aver fatto delle cose effettivamente contro la legge ma fatte contro la legge tipo appunto carte di identità false documenti falsi per aiutare dei migranti che altrimenti non avrebbero potuto avere una vita perlomeno decente ecco ogni tanto capita che i giusti spesso lo fanno no che si si deve andare contro contro le leggi non per un interesse personale appunto ma per aiutare le altre persone e appunto su sughiara e ian sfardendic hanno in questo modo falsificando i passaporti salvato dalle 6.000 alle 10.000 persone e anche paradossale ricordare che anche svader di che dopo la guerra quando tornò in olanda ebbe un fu un rimprovero ufficiale da parte del governo olandese per aver fatto qualche cosa che era contro gli interessi del governo olandese e poi è stato ovviamente di stato chiesto scusa eccetera eccetera per il suo coraggio per la sua scelta di non fare soltanto il rappresentante lampadine ma di aiutare le persone a salvarsi anche lui che non era un diplomatico quindi non era una persona diciamo così legata a un servizio un servizio appunto ufficiale anche anche lui ha dovuto subire diciamo così una sorta di rimprovero riprovazione riprovazione ecco questo è un esempio un esempio delle storie che noi vogliamo raccontare e che sono le storie appunto dei giusti quelle che noi chiamiamo le storie dei giusti e i giusti sono nel fondo delle delle persone che non necessariamente devono pagare con la vita per la loro per la loro azione il meccanismo che li fa diventare giusti rimane sempre un po' misterioso in fondo no giustamente appunto è stato ricordato prima che evidentemente dentro dentro di noi c'è per fortuna una coscienza che a un certo punto si risveglia che ci fa aprire gli occhi e ci fa agire sia l'olandese rappresentante la philips che abbiamo citato prima ma basterebbe pensare anche a un'altra persona che non aveva nessuna funzione ufficiale che era giorgio perlasca commerciante di carni che in ungheria anche lui fece anche lui fece un'azione contro le leggi perché si fece passare per console spagnolo e stampò falsificando passaporti documenti stampò di lascia passare che salvarono decine e decine di ebrei e alla domanda che gli abbiamo fatto tutti io stesso gli hanno fatta ma perché lo ha fatto la sua risposta era quasi se vogliamo così anche troppo semplice la sua risposta era ma che cosa potevo fare altrimenti se non salvare le persone ed è esattamente la stessa risposta che in un'intervista che gli fu fatta ha dette appunto il rappresentante appunto della philips a caunas non avrei potuto fare altrimenti chiunque di noi avrebbe fatto qualsiasi cosa purtroppo non è così che chiunque di noi però è interessante che queste persone hanno di se stesso anche questa sensazione di non essere degli eroi appunto di essere persone che hanno fatto in circostanze drammatiche la scelta giusta perché non c'era altra scelta da fare se sei una persona per bene non puoi fare altro che questo ecco ricostruire anche il più possibile questo tipo di motivazioni è una cosa molto importante nel racconto delle storie dei giusti perché avviene probabilmente qualche cosa che già agostino di pona nelle confessioni aveva aveva raccontato e l'aveva chiamata all'illuminazione c'è un momento in cui lui era ovviamente un uomo molto religioso e dava a questa illuminazione una valenza appunto profonda spirituale insomma no cioè dio che ti aiuta a avere questa illuminazione però questa luce che si accende nelle coscienze è qualche cosa appunto che è affascinante ed è straordinaria e capire questi passaggi raccontarli utilizzando anche appunto spesso le parole che queste persone queste testimoni utilizzano è estremamente importante per rendere forte il racconto non soltanto una semplice storia il dicevamo appunto che i giusti non sono dei santi il magistrato israeliano moscebeis chi è sopravvissuto alla shoah grazie alla generosità dell'industriale tedesco oscar schindler molti avranno visto ricorderanno il film la lista di schindler di spilberg si battè nel 1963 perché appunto colui che l'aveva salvato appunto questo industriale tedesco venisse considerato un giusto e gli venisse dedicato un albero in questo che da allora esiste a gerusalemme che è il giardino dei giusti appunto di ad vashem appunto schindler schindler non era un santo non era una persona anzi una persona abbastanza se vogliamo discutibile era un imprenditore nazista che sfruttava il lavoro dei prigionieri ebrei non era appunto un una persona moralmente irreprimente ma quando appunto anche lì a cracovia a un certo punto l'esercito tedesco le ss con gli dissero che anche i suoi lavoranti ebrei dovevano essere portati via per essere liquidati lui lì si dette da fare e salvò queste persone cioè le nascose e creò una lista che di persone indispensabili alla produzione delle divise tedesche e con questa lista appunto anche moscebeschi si salvò questa storia appunto Gabriele Nissim l'ha raccontata nel tribunale del bene la storia di moscebeschi e l'uomo che creò il giardino dei giusti ecco proprio questo anche libro racconta come un personaggio appunto non non straordinario abbia potuto a un certo punto tra mille contraddizioni diventare una persona che che salva molte vite e come viene detto appunto a Yad Vashem se salvi una persona salvi il mondo intero la narrazione della storia dei giusti necessita però forse preventivamente di una riflessione sulla memoria perché qui stiamo lavorando sulla memoria la memoria va associata prima di tutto ai luoghi ed ecco c'è uno studioso italiano molto molto sensibile uno studioso di Primo Levi della letteratura del novecento che si chiama Alberto Cavaglion che insegna storia ebraica all'università di Firenze che ha sostenuto che la storia ha inferto ai luoghi e al paesaggio danni altrettanto irreparabili che la speculazione di Lizia sembra un discorso abbastanza provocatorio però questo fatto di unire la memoria il problema della memoria al paesaggio mi sembra che sia necessario come suggerimento per raccontare e riflettere sulla memoria in modo diverso da come spesso si fa dice Cavaglion e qui lo riporto perché sono parole anche molto forti la memoria ha allogorato certi luoghi rendendoli retorici facendogli perdere la loro più profonda verità nelle giornate della memoria ad esempio i luoghi e memoria come Auschwitz diventano qualcosa di rituale che fa perdere di vista il dramma i luoghi contaminati della seconda guerra mondiale per quanto elevata e sincera sia la nostra volontà di ricordare respingono non attraggono sbagliamo a imporre ai giovani di visitare quei luoghi senza avvisarli con un cartello paesaggio contaminato il venire di Auschwitz contagia anche lo specialista non soltanto il lettore comune infatti gli spazi insanguinati le bloodlines rinfoclano per loro natura il desiderio di fuga non bisognerebbe far calpestare quei luoghi ai visitatori ma fermarsi sulla soglia senza entrare l'errore che abbiamo commesso è consistito nel credere che il processo educativo potesse svolgersi dentro il paesaggio e non sulla soglia del paesaggio ci siamo lasciati cullare dalla fiducia illuministica del comprendere tutto e subito anche ciò che per definizione è incomprensibile ci siamo cullati nell'illusione dell'accoglienza dell'aprire le porte degli inferi ai nati con la libertà senza avvertirli che il veleno corrode ecco io credo che questo sia una riflessione forte anche discutibile per certi aspetti ma che ci pone appunto anche il problema di come trattare la questione appunto della memoria della Shoah e del ruolo dei giusti i luoghi contaminati appunto dovrebbero essere circondati da un cordone sanitario di libri dice giustamente Cavagliò questo è il grande compito degli insegnanti letture comprensione non esperienza necessariamente diretta agire sullo studio la comprensione la riflessione più che sulle emozioni incitare a scrivere a studiare a riraccontare appunto a narrare i luoghi della memoria pubblica dovrebbero così aiutare a ritrovare la speranza la memoria non deve essere la parola malata che è diventata oggi dalla tragedia deve rinascere la voglia di vivere nonostante la sofferenza patita la sofferenza domina l'abominio mentre la memoria obliqua è un'invenzione più tardia la filosofia del cion nonostante si afferma all'indomani dell'apertura dei cancelli di Auschwitz i primi superstiti scrivevano delle loro gioiose esperienze di essere tornati a casa alla vita quotidiana anche questo è molto interessante che le prime testimonianze che noi abbiamo sono quasi tutte diciamo sì testimonianze di persone che nonostante la cosa terribile che hanno sopportato raccontano la gioia di essere tornati aver ritrovato qualcuno della famiglia aver ritrovato i gesti quotidiani del mangiare seduti del dormire in un letto eccetera eccetera è dopo che le persone sentono la responsabilità quando la gente che li ascolta sembra incredula sembra non capire che cosa in realtà sia successo sembra non capire che queste persone si commuovono a spezzare un pezzo di pane in tranquillità allora lì si capisce che c'è un ruolo di testimone che diventa necessario anche in un bellissimo dramma del teatro italiano Napoli millenaria di De Filippo c'è anche qui c'è un uomo che torna dalla guerra e appunto non riesce a comunicare con gli altri non riesce a dire che cosa è successo è contento si commuove delle cose più semplici e però quando gli chiedono e lui non sa cosa dire e tutti gli dicano ma dai è finita sei contento sei tornato e lui appunto sente questa forte difficoltà a raccontare quello che lui è capitato quindi dal racconto della gioia per la libertà si fa restituita si passa invece a un senso anche di responsabilità per raccontare per narrare quello che agli altri sembra impossibile incredibile inevitabilmente quella stagione si è consumata rapidamente quella appunto della gioia del racconto del ritorno come fatto bello ma siamo stati troppo superficiali nell'archiviare a quel nonostante Cavaglion cita una lettra di Vittorio Foa venuta alla luce da poco tempo indirizzata alla sorella Anna subito dopo aver saputo del suicidio di primo Levi Foa ricorda di aver pensato e detto a Levi che se questo è un uomo era un libro pieno di speranza era paradossalmente pieno di speranza i racconti che lui faceva avevano una sorta di speranza e invece dice Foa a Levi il suo ultimo lavoro i sommersi e salvati vedeva il male come irreparabile chiesi a primo Levi perché mai mi rispose in vario modo ma la sostanza era che quando era giovane poteva sperare da vecchio non più anche questo è un elemento importante il modo di raccontare di narrare è anche legato a un problema generazionale i testi letterali possono essere un utile ausilio alla conoscenza storica e alla narrazione delle biografie la letteratura pur essendo finzione è una straordinaria fonte per comprendere cosa accade soprattutto per quanto riguarda la mentalità e la percezione degli avvenimenti uno storico polacco purtroppo deceduto in un testo molto importante che si intitola documento e testimonianza la letteratura dell'olocausto che fu pubblicato in un volume di testi vari che si trovava testi letterari e conoscenza storica la letteratura come fonte dalla Bruno Bondadori nel 1986 scriveva i fatti in sé parano da soli ma gli autori delle testimonianze danno loro un nome e quindi li racchiudono in categorie, li commentano e li giudicano e quindi li uniscono in uno schema conoscitivo e assiologico se la letteratura è ciò che è stato aggiunto alla relazione della coscienza morale propria dell'autore dalla sua opportuna fatica nel trasformare le proprie vicissitudini in una propria visione del mondo umano lo storico è il compito di separare proprio questi livelli della creazione artistica e del giudizio soggettivo dalla testimonianza che ha intenzione di utilizzare come fonte quindi il compito dello storico è quello di separare l'aspetto anche in primo levi letterario dall'aspetto invece di fonte, di fonte di conoscenze ma l'unione delle testimonianze e del racconto letterario rende la narrazione quanto mai forte e Milan Kundera nell'arte del romanzo infatti ha scritto la letteratura è una delle migliori alleate della memoria scrivere ha un grande valore morale la lotta dell'uomo contro il potere e la lotta della memoria contro l'oblio la storiografia scrive la storia della società non quella dell'uomo perciò gli avvenimenti storici di cui parlano i miei romanzi sono spesso quelli che la storiografia ha dimenticato non solo la circostanza storica deve creare una situazione esistenziale nuova per il personaggio del romanzo ma la storia deve essere capita e analizzata in se stessa come situazione esistenziale lo spirito del romanzo è lo spirito della complessità la conoscenza è la sola morale del romanzo ecco questo spirito della complessità che non deve mai essere dimenticato quando si narrano queste storie questa unione appunto di capacità di racconto e nello stesso tempo testimonianze è quella che ha fatto appunto di Primo Levi uno dei personaggi più importanti anzitutto proprio dal punto di vista della letteratura Primo Levi è anzitutto un grandissimo scrittore e poi anche un testimone ma non è solo appunto come spesso si è pensato un testimone il sistema periodico pubblicato nel 75 a Torino presso Enaudi rappresenta forse il migliore esempio di un equilibrio efficace tra il racconto di memoria e lo stile letterario uno dei più alti esempi della letteratura italiana del dopoguerra nella narrare Primo Levi si poteva avvalere di un rigore mentale e una precisione che derivavano dai suoi studi dal suo lavoro scientifico le sue tragiche esperienze vengono rielaborate alla luce della sua grande cultura e del suo carattere onnivoro enciclopedico e curioso se qualcuno si ricorda il sistema periodico che appunto sta alla base del lavoro di ogni chimico e Primo Levi era un chimico di mestiere appunto racconta dei vari, sceglie alcuni elementi del sistema periodico e per ogni elemento racconta una storia ed è veramente letterariamente ma anche appunto molto suggestivo questo modo che lui ha di raccontare poi Primo Levi, diciamo sì, nella sua percorso letterario ed esistenziale è arrivato a un momento in cui la parte letteraria, diciamo così è diventata forse meno importante e la parte invece filosofica drammaticamente profonda è diventata, ha avuto il sopravvento quello è un po' appunto che diceva intuitivamente Foa e infatti l'ultimo libro di Primo Levi I Sommersi e Salvati pubblicato nell'86 poco prima appunto di togliersi la vita si trovano però anche lì dei racconti fulminanti e in particolare secondo me e lì è una grande lezione che Primo Levi ci dà c'è il racconto di un personaggio inquietante il presidente del ghetto di Wuc, Haim Runkowski che vedete qui nella foto perché inquietante? perché Haim Runkowski si trovò ad avere una responsabilità enorme come i tedeschi nella loro, diciamo sì, perfidia fecero in modo che i ghetti fossero autogovernati autogovernati da rappresentanti appunto della comunità ebraica particolarmente importanti queste persone pensarono di prendersi questa responsabilità che era una responsabilità terribile perché in questo modo avrebbero potuto cercare di salvare il più possibile persone del ghetto ma in questa opera di salvazione purtroppo dovettero fare quello che dovrebbe fare soltanto il creatore dovevano scegliere appunto come dice Primo Levi tra i sommersi e salvati quando i tedeschi bussavano alle porte del ghetto e volevano questo lo ricorda anche Anna Arendt nel processo Eichmann quando rimane sconvolta lei da queste testimonianze su appunto l'autogoverno ebraico dei ghetti quando i tedeschi bussavano alle porte chiedevano persone per essere trasportate nei campi di sterminio questi governatori del ghetto dovevano dargliele queste persone dovevano dargliele inizialmente gli dettero i malati poi gli dettero gli anziani era una cosa terribile, insopportabile tanto che molti di loro impazzirono Haimer Unkowski in un certo senso impazzì perché si sentì a un certo punto di essere una sorta di re si faceva portare una sorta di portantina infatti il racconto di Primo Levi si chiama Il re dei giudei e però appunto in modo veramente letteralmente straordinario Primo Levi riesce appunto a raccontare a narrare la tragedia di questo uomo ma che è la tragedia appunto del popolo ebraico e non soltanto del popolo ebraico la tragedia di tutti noi nel novecento quindi narrare la storia di un giusto è possibile se si riflette nel rapporto tra verità e finzione nel nostro caso appunto la finzione non è soltanto una questione letteraria è anche un modo per colmare le lacune certe volte si deve raccontare diciamo letterariamente anche perché ci sono ci sono dei buchi e i buchi non sono soltanto i documenti possono essere dei dei grandi buchi di memoria dei buchi psicologici un grande gesuita francese storico e psicanalista lacaniano Michel Descerteau ha scritto un libro storia e psicanalisi tra scienza e finzione che fu pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2006 dove appunto lui racconta come nel ricordo l'elemento diciamo sì del blocco psicologico è un elemento da tenere presente perché è molto forte il racconto dei giusti infine ha per noi un valore morale quindi non è soltanto un racconto di memoria perché le storie dei giusti ci devono aiutare a capire il vero significato del mai più cioè il fatto che ci siano stati delle persone che hanno agito in una certa maniera ricostruendo la loro storia noi possiamo anche diciamo così insegnare ai giovani soprattutto a far sì che questa cosa questa grande i genoscidi questo grande dramma della storia dell'umanità non avvengano più e gli studenti quindi secondo noi dovrebbero essere invitati a essere dei piccoli appunto detective ricercare appunto gli indizi di un giusto e dovrebbero essere sollecitati a studiare la vicenda del giusto nel suo contesto storico concreto tenendo conto delle idee politiche e morali distorte e pregiudizi allora dominanti in modo da comprendere anche il travaglio interiore che precede la presa di coscienza e la ribellione contro l'indifferenza e la violenza dominante perché non tutti furono giusti ma non tutti furono ingiusti cioè c'è un enorme appunto zona grigia come la chiamava primo levi che appunto per paura per vigliaccheria ma anche per bassi interessi ma anche semplicemente perché il fatto che non avevano gli strumenti queste persone diciamo sì non si sono comportate da giusti ma non sono stati nemmeno diciamo sì necessariamente dei complici e poi analizzare criticamente appunto la storia del giusto raccontata nella nostra enciclopedia cioè andare a vedere come i nostri racconti che abbiamo ricostruito possono essere ulteriormente migliorati approfonditi ricercare ulteriori notizie utilizzando anche appunto fonti letterarie provare a narrare nuovamente la storia basandosi su fatti raccontati cioè provare a riraccontare questo può essere un ottimo strumento e anche inventare una storia con le stesse caratteristiche cioè prendendo appunto questi elementi e come un detective stavolta riraccontarla di nuovo confrontare storie simili e anche opposte e vorrei concludere appunto con una riflessione di carattere anche personale l'umanità è sempre sopravvissuta come abbiamo visto perché ha raccontato le storie sono il fiato del mondo forse perché nella famiglia di mia madre erano dei grandi chiaccheroni il silenzio era considerato qualcosa di imparentato con la morte si è zittito diceva la nonna Giulia Vitale quando scopriva che qualcuno era deceduto gli unici momenti quando esigeva che non volasse una mosca erano mentre consultava nel giornale la pagina dei necrologi era un rito come se leggesse il programma del cinema trovava sempre qualcuno che conosceva succhiudeva gli occhi e iniziava a raccontare meravigliosamente della persona scomparsa era lei in quel momento che gli ridava la voce si faceva così tanto prendere dalla storia che si commuoveva ma anche rideva ricordando l'esistenza del defunto dal suo punto di vista che era il più possibile obiettivo e non era mai soltanto un'apologia da molti anni mi sembra di aver capito che avesse ragione la nonna raccontare e vivere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti